La Jolly Marine è un'azienda che è presente sul mercato nazionale e internazionale da oltre 50 anni ed è un'azienda familiare, nel senso che è stata creata nel 1961 da mio papà e oggi io con i miei fratelli conduciamo questa realtà. Per il Salone Nautico di Genova abbiamo preparato moltissime novità, anche se molte di queste si basano solamente su alcuni dettagli estetici o dettagli tecnici che sono stati migliorati o che sono stati aggiornati. Un effetto che si vede subito per esempio sono anche quello dei colori che per la stagione 2013-2014 siamo andati a selezionare una gamma di colori bianco con il grigio carbonio che sta riscuotendo veramente un ottimo successo. La novità assoluta invece per quanto riguarda le imbarcazioni è il Prince 23 Cabin. È sicuramente il primo battello così piccolo ad essere dotato di una cabina ed è nato proprio dalla forte richiesta di tantissimi clienti che sono interessati al campeggio nautico ma che un tempo dovevano rivolgersi a delle imbarcazioni un po' più grandi. Oggi invece con questo Prince 23 Cabin riusciamo a dare una splendida cabina con un locale WC in un gommone da soli 6,90 m. I vantaggi del Prince 23 sono diversi. Uno fra tutti è proprio quello di essere un battello piccolo di dimensioni ma con la possibilità di avere grandissimi spazi all'interno sia in cabina e sia in pozzetto. Diciamo che con la dinette ci stanno comodamente sedute 6 persone che possono stare attorno a un tavolo e diciamo prendere un aperitivo o fare il pranzo in mezzo al mare. Un altro vantaggio che è proprio dato dalla sua dimensione è quello della carrellabilità cioè il battello si può tranquillamente trasportare ovunque dietro ad una macchina e anche un altro vantaggio è quello della potenza. Il gommone è vero che è omologato per 300 cavalli ma già si muove bene e svolge tutte le sue funzioni tranquillamente con 200 cavalli quindi anche il cliente che aveva già un motore fuori bordo di questa potenza intermedia tra i 200 e i 300 cavalli può comunque eventualmente recuperare il suo motore in più toglie a tutti quella famosa scommodità di dover montare e smontare ogni mattina e ogni sera la vecchia tenda a campeggio nautico perché qua non c'è da fare niente il gommone è sempre pronto. Un'altra novità che abbiamo per il Salone di Genova è il Prince 43 Sport Cabin Luxury che si trova nella marina qui fuori davanti a noi ed è un battello ovviamente anche questo adatto a campeggio nautico ma probabilmente per un target di clienti completamente diversi anzi questo forse è più un tender di un mega yacht che non tanto un battello da campeggio nautico. Un'ultima novità molto importante invece la presentiamo sul Prince 35 Sport Cabin che anch'esso si trova nell'area della marina abbiamo installato su questa imbarcazione il sistema Axios della Mercury Mercruiser che consente al battello soprattutto in manovra di muoversi molto liberamente grazie all'utilizzo di un joystick inoltre ha molteplici funzioni come quella di autopilota per quando ci troviamo in mare aperto.